Ascolini Facciamo una cosa nuova dai Vai Orazio ma carattolo arriva No da te non arriva a me Da te arriva KFC Anzi no da te arriva Burger King Ma chi sta a casa Mi pare di Cimuricilia Orrazio come va con la fidanzata Ma non è che era un profilo fake State facendo l'amore con la fidanzata Con la fidanzata La quale Tutto virtuale Cioè non è che l'avete a casa Ah vai Orazio E' bene la cosa virtuale Però ogni tanto Ti puoi comprare il viere L'avete virtualmente Così lo fai col viere Ma non girare sti cosi Che che non fa più davvero E tanto non ce l'hai vieta ancora Però io ce l'ho Aspetta Oh Volete fare Aspetta Ma che carammate Il mio amico E' cosa L'autobus Ancora sta maledetta missionale Distruggire tutto Ok Fai perso Poi ci sarà Rial La ragazza All'eterno comics I tanto Poi ci vado Solo tre giorni Solo tre giorni E poi c'ho I rimisi Eh no Perché mio fratello Forse c'è l'abbonamento Quello vecchio Ma quanto dura Scusa Quanto dura La comica Eh boh C'è il biglietto da 50 euro Ma chi se lo fa Cinque giorni Cinque giorni Dove restano Ma allora stai No Dicevo L'abbonamento Di 50 euro E cinque giorni Sì 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 Lo so Sto dicendo Dura cinque giorni Quindi Aspetta una comic Ma penso di sì E che c'è nel sito Eh ma allora stai Però Eh sì Come Come le scorse Volte No No Le scorse volte Non durava cinque giorni Mi sembra Di ricordarlo Vabbè tanto c'è scritto Tutto su Durava Durava Da Giordaggio A domenica A domenica A domenica Vabbè 4 giorni Vabbè capace che lo fanno durare di più perché c'è stato il covid e la chiusura Vabbè ma poi comunque la maggior parte delle persone ci fa solo sabato e domenica C'era qualcuno che sparava C'è una cassa a Davide Minga da Leandro e Horazio è incinta la mia ragazza Dai Mi vuole essere già in cima che cazzo Di qualche tocco Non ci credo E' incinta qualche tocco C'è C'è già che ci sono conosciuti già incinta Minga un minio razio Ora grazie A me si si incinta A chat Ora ho qualche balletto di tiktok Un minio razio Minga già ci una pastava uno Non ci una pastava uno Ming c'è una gazzaladra Ma che sei L'aerba tu Ma te l'ha spoggiata Luciano tu perché non vieni Quella della Comis Nessere la scoccia Luciano Nessere di Comis o di Villa Architea C'è un mondo fuori da Villa Architea Ma poi ci confrontiamo a Davide No Ok Io l'ho indicato Forse Probabilmente non ci vanno No Tipo A parte l'Atena Comis Ci incontriamo Ah E non lo so Puoi vedere E vabbè No Erea Non lo so Se Ci sarò Lo annuncerò Lo annuncerò Vabbè Penso Sui miei soldi Social No Mi stai a casa E mi chiuso Ah penso che in estate ci sarai perché sarai lì d'azzurro Come sempre Che è incinta di me Quei che eravamo lì d'azzurro No dico Ci sarai lì d'azzurro perché una volta facevo i social time Una volta Cinque anni fa E c'era io con te Bello Bella Erea Bello 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 solo una statua che è volato che è incinta di me la mia ragazza ah oh caga Orazio comunque quel personaggio che hai tu c'è su Super Smash Bros non so se lo conosci è Ryu il personaggio che è io è Ryu 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 ed è di Street Fighter vabbè si c'è anche su Smash Bros ci sono un sacco di cristiani di tantissimi giochi diversi ma non c'è gente ogni volta con zero costruzioni è meglio che non parlo che poi ci rispondano a visita 5 domi diverse dai che io sono un Jedi ce la faccio grazie per avermi grazie per avermi coperto tutti i bastanti grazie a non ci spara non go pensi che mi stavano massacrando ci ho preso la scheda grazie grazie sto cercando di scappare un altro posto per rianimarti ho già fatto quando ti ho messo a terra io ho messo il compagno ok ah si non lo avevo visto i visti che mi massacrando poi l'altro quando ti ho messo a terra ci si muove l'altro guarda qua c'è tutto il lutto c'è il carammato c'è pure il pomodoro che vedete shield comunque quell'ultima volta quando stavi per morire che ti ho visto in partita eri proprio la e c'era tipo un furgo una specie di cassetta di tutti i scendini era qua terra 1 con che pensavo c'è gente si è terra 1 qua c'è il pombo l'agendario sopra dove ho fingato i scendini c'è il pombo spammone e la rica è rimasto solo l'ultimo è da sotto lo scendino ci si venga ho scogliato non si è buono non si 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 andiamo in secco lo scendino le pastiche si mettono anche nella macchina le classi pasticchi refrenerà la macchina ora ma sta dicendo cosa allucinante abbiamo già abbiamo un figlio di 9 anni una figlia di 8 anni ma ma forse latte orazio forse ma è un razio 26 ct1 solo c non ce l'ho fatto in giotto l'ultima volta no uno solo c ah lui ha due account orazio ok c'è già andato in avanti ah è ammazzato le tutte se basta io caspò la lasra ma se non è uscito c'è un è uscito mai non credo che sia stata qualunque la ragazza ma sta sparando gabriele sta sparando minchia minchia ancora allora perché io piglio un po' volo sta sparando minchia sarei che specchio se non calavo aspetta aspetta c'è uno con il jetpack non va bene arrivo seconda io sono le sabato scende da me scende da me c'è troppa gente cosa c'è io me non hai ah qua c'è un altro jetpack noo 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 Dove spacchio è la scheda? È lì, ce la fai a prenderla no? Sì, eccola Prendiamo un fiato Prendiamoci il pacco Su qua Prendiamo pure la rift Eh, qua Mi ho preso la scheda, Davide Gabriele stai ricando Stai ricando me, chi mi ha oggi? Complimenti Stavo ammazzando tutti Il mio caso è di raggiungare i pokémon Ah, pokémon co Guarda, guardami a me C'è tipo Bebi Yoda Sì, sì, l'avevi visto Cazzo Ma dove cazzo sei? Ma non vedo nessuno Cazzo 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 Guarda, guardami Boh Bambi Chi è bella? Questa? E che è, c'è tutto la maglietta? Ma anch'io forse c'ho la barba così Aferra e Maia a vittoria oppure Aferra di San Biagio Luciano ci sei in chat? Ma com'è che tutti i festeroscoomogli conosci tu? Chi ha Giorgino mando abbonato? Davide ma mi ha detto Manu ma già lo sapevi forse che andavo da scuola insieme? Ma voi? Con Manu A scuola assieme con Manu no io non andavo a scuola assieme con Manu Ma non mi ha detto che eravete compagni di classe Ma che spai che sarà quale Davide quale Davide capivo Magari Manu Manu non è mai stato al... Manu tu dici il parrucchiere? Si Ma Manu non è mai stato al... Al Cannizzaro io andavo a Palemma a Catà Chi tu è? Chi tu è? Di San Giù... San Bertù Clarenza Ma... Ma... Ma non lo so perché lui dice... Dice che andavate a scuola insieme si ricorda così Ma che spai che dici? Noi ci siamo conosciuti alla chiesa evangelica con Manu Si al Calasse Si Allora forse mi sono confuso per quello Buu San raga siccome fu un funio forse ha capito qualche altro Davide Ah ok O ha capito qualche altro Davide oppure proprio non ricorda bene Io ma... Io a Manu l'ho conosciuto perché una volta ero... Se non era più bestia ero angelico capito? Lui fa surf, fa un tocco di cose Si si lo sa, lo sa Questa di Pasqua sono stato da lui C'è nato il cavallo e c'è nato A livello locale sono molto importanti e durano anche qualche giorno Montano anche le giostre Finchia allora... Certo Luciano tu che sei abituato da... Quando ti mettono i giostri per dire fare casea e negli occhi Beh mi piace questo lato... Ci sono due spade laser Questo lato tradizionalista di Luciano Questo lato... Campagnolo di Luciano Ciò... Ciò... Bello che sta Anzi no... Vediamo cosa c'è il cecchino qua Qua'è una spada laser? Davide? Maa per il momento no... c'ho quella rossa e quella Obi-Wan-Wast Obi-Wan, 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 Obi-Wan ma scusa hai il baby Yoda? io dico una cosa su che minghi regatta hai a casa, a casa hai un bambolotto di baby Yoda hai a skin con baby Yoda e non conosci Obi-Wan Kenobi non sei più Obi-Wan Kenobi? ma si, la retecoppa, la mattina in Sina Sina c'è il DVD, mi sono visto anche su Disney Plus ma no, no The Mandalorian, quella è Star Wars, tutta la saga di Star Wars eh, ce l'ho accattato da sera, ce l'ho cd così no, io mi secco a leggere i libri, non ne negco ok 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 c'è gente lo sbagliai occhio dietro una terra voleva fare un jetting fai bianco c'è il video che sta piangendo 40 di vita che non mi strano che aveva sto ex dobbiamo una robbie preparati nel senso che è una bella fiera, non che le giostre siano chissà che cosa aspetta che vabbè Luciano sono sempre fiere paesane ma non sono le fiere che ci sono io a Catania a Balermo no, fiere così dei paesini sono fiere per i danni diciamo bella che le pulci sono stato è sì, stai veramente, non sto scherzando oh, faccio un cazzare a Luciano ma io sono stato alla fiera delle pulci e i pollici da testa lì, ti la vasti faci sto shampoo ma io mi faccio sembra doccia animativa comunque la fiera delle pulci c'entrava anche io quando ero piccolo e lo faceva una volta ora non lo so dove una volta la faceva lo sai dove c'è quello i bari dei famosi non so se ce l'hai presente dove c'è dove c'è l'aereo che fatti la per andartene ah, ora lo fanno a Fondata Rossa una volta era proprio a Catania Centro ah, ma c'è quello che è tipo vicino al mare e poi quello te lo da lui come i giochi vediamo se allora Tecno vediamo se c'è l'aereo Tecno mi pare no? non mi ricordo ah, sì Tecno tecno 4 qui su 2 sì, ce l'ho tecno 4 guarda caso la finale Italia Francia 2006 la guardai a Ferra San Viaggio come faccio devo angu mondato all'epoca e manco minchia scopriamo oh, ragazzi minchia questa live questa live la pubblico perché così me la ricordo scopriamo finalmente un particolare della vita del signor Luciano Acchipindi che fino a ora rimane un incognito suo padre a scalini si aggiunga 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 su facci si munda si munda i vanghi alle fiere e chi vini scusse che cosa vende minolata zucchero filato chi vini forse giocato le cose nel 2006 quanti anni avevi Luciano tu eri 27 nel 2006 eri 20 anni fa eri piccolino ma non so se l'hai visto però sul mio profilo facebook ci sono i video che ho fatto quando mi sono buttato da ogni dalla scogliere alta ci sono anche i video quando ero piccolo no non mi ricordavo completamente è come se non me l'avessi detto e poi ormai ho tutte ho la foto quello là del lettere che mi si scossa vallo attenti alla menuta quello là che si scassa cosa vendeva Luciano cosa vendeva attenti attenti all'anno e poi quelli là erano del gruppo fork quelli là che hanno ballato con te che li conoscevo anche io erano quelli che facevano lo teatro venga arrosto e mangia quindi ottimo si dice che cos'è la media pad Luciano mi viene fare gioco con la sassiccia poi si bello immagino che tu sia bello bello in carne a parte che mia mamma me l'ha comprato oggi si è arrivata a carne cavato in bottini io mangio di tutto ci sarà uno che ha rifiutato causetti causetti ah e chi c'entra c'è carne cavato in portata scusami pensavo pensavo che aveva i roste in mancia aveva i nevi causetti ah buono ottimo a me mi verrebbe mangiare cioè immaginare un panino con la carne con la sassiccia già me lo sto mangiando col pensiero ma poi esce la fattura due non so se l'ho trovata vista no ciao mi rodo un cazzo quando è stata sta discussione c'è un cabinato davide se vuoi lo do del cocco a me lo guida cocco ogni volta che ho delle cabanine c'è uno che fa cocco fresco un euro no ceppa no razzi per favore fare s guida ha l'ha 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 dove andiamo samu pinga pinga non lo so sincero non lo so vabbè stiamo nel cavallo dice quando sei nel dubbio di fare qualche cosa non fare niente gabriele ma proprio casa mette sto ballando il ballo silenzioso se vengono persone ci vedono ti vedono perché sei mezzo fuori ora non ti vedono anche quando sei alzato è grande c'è spuglio la musica la sento e vabbè sta ballando c'è spuglio è vero ragazzi è vero tutti i video di sparo non è a me così perché non ti faccio stasano ti piace la pasta col pesto buona la mia preferita c'è gente ma dicelo no non c'è gente c'è scritto non se ci sono andiamo ad aprire le droppe vai con la macchina spara veramente orazio spara veramente ti sparo appena ti piglio ti sparo ma mi spero che stavano sparando nel gioco hai capito ora orazio stai attento attenzione che ti ballano nella pancia davide attenzione ora orazio ma stiava e magari un pallino rosso andò andò buttoso per sparare ma ci vuole il coraggio per fare questa domanda orazio ora ero i picchi da oggi picchi di quei tipi non lo so si chiama orazio 26 ct ragazzi mi sto sentendo oggi abbandonato da dalle persone che non vengono e qua non ci siamo noi i nemici Gabriele i nemici ok minico vengono i nemici fanno una lampadina a led sta cosa sta rossa quando ti vuole fa buio questo questo forse lo so il piso tu sei fan pure di star wars giusto davide vabbè non è che sono fan però ho visto tutti i film io c'ho nel vr nella ps4 c'è star wars c'è la missione di è uscito un gioco di star wars che è troppo bello ma è vecchio c'è ormai è vecchio perché mi sembra che io lo giocai nell'xbox 360 se non vado errato ma è troppo bello è stato uno dei giochi più belli ancora oggi ne parlano vabbè ma se c'hai l'xbox one sono retrocompatibili i giochi alcuni eh ma io non l'ho io ce l'ho però non so se si può inserire nella mia xbox hai troppo nc per sparare minchiato ragazzi ma è vero non c'è nessuno no ma non è non è non era un'esclusiva solo di xbox mi sembra che c'era anche per ps3 all'epoca anche per pc credo vabbè io ciò sembra che si chiama vabbè mettete star wars videogioco che mi sta sfondando si forse hobbie na hobbie ma cazzo sono nomi strani sti cosi hobbie vabbè ma serio basta ma si chiama io c'ho l'immagine vabbè quello nuovo c'ho quello nuovo quello la hobbie one cosa quello che hanno fatto oh sì oh sì oh sì oh sì vabbè 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 la tavola avete ma che affare con switch oiettila il cielo alla switch pure sia quella light e singola per la tv c'è pure la psp la psp go tutto ma stiamo facendo tutti in gira per ritornare in questo punto scende col bus ok scende col bus via caso io lo rubo il bus via io lo rubo eh mi stanno sparando una terra eh ci stanno curando finitelo finitelo finito finito vieni qua che ti sparo tante miniciciccele ehi bot non ammazzare che cazzo è successo? che cazzo è successo? chi è che è marittato? pensavo che era davide che mi faceva lo schetto di vieni qua oh chiamano tre ah signor ho scappato? ria un volto quindi ho scappato 26 a 39 e a 26 magari dopo sto minchia uno shield? se vende se uno shield puoi sparare? sei tu? eh io si qualcosa dai giambano no dai giambano è bianco è bianco spara spara bastardo maledetto chieda la macchina si in mezza porca puttana cascaio occhio ceccolo oh dai 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 occhio occhio dai ceccino m***a stanno cusciando i bastard adesso chiedere Natalia m***a io non m'affaccio io stavo qua m***a mi ha preso quello che non le fare più sono d'ammazzo e lo so sto cercando di scappare e vaffanculo e cazzo ci fa sto cinghiale qua vabbè l'ho tutto un po' di danno ma non so se si sono ricurati ma se sono morto che cazzo mi cecchino uff tutti cazzo tutti cazzo stessimo una partita senza senza tirare al nodo a m***a che non da faccio infatti e no scop su una porta fata fata cazzo qua pusha no fun work e stiamo morti stiamo morti stiamo morti perchè non li posso fare dicendo tps eeeh seba certo che li posso fare uff uff Niente facciamo senza build Senza build Ragazzi che c'è il lobby Va bene C'è un boss Chi c'è il lobby raga Chi deve entrare Eh Seba mi dispiace C'è già Rostar Ho messo pronto Ma è roppato Azzato quella Azzato 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 E che hai fatto un messaggio a Giauli? Io sono tuo padre Mingga c'è te Troppa gente Samu, Samu stai facendo un poco di rumore Sta facendo l'SMR Sta facendo No, mi coprono staccato prima Gente è qua Samu stai attento, sta arrivando da te Stai E con gli altri video Stai qua Mingga sta scompiando Rapido reale Samu, mutati Samu Sta scompiando Ce l'ho buttato le minicicciole Basta la vista Ehi, puoi Ehi, puoi Non lo so Ehi, puoi Ehi, puoi Ehi, puoi Ehi, puoi Ehi, puoi Ehi, puoi Aaaaah, no un team da solo dove cazzo siate maledetti sono tutti qui in zona hai ammazzato a quelli della team dopo questa io mi dissocio vabbè perché volete la vota fanno schifo di rubano 105 euro il suo c'è ancora di più mi stai facendo perdere iscritti gabriele questi battuti vecchia la vada con la roba san di roma da ok levo i follower dalle chia momenti ma che cazzo è la macchina automatica tipo poi ti controllo ma non mi dà fastidio la sento da tutte le parti ma non mi dà fastidio la sento da tutte le volte a catania ma tutte le parti sì poi mi viene di dire solo meno su chi no mi dissocio certo me lo su chi me lo annaghi me lo giucci me lo tocchi me lo giusto ci sono tanti me lo mi fanno assemeria ci sei dando quelli che fanno le smr sono sono fidanzati oppure no ma vai lo so io lo poi chiede e si va nella live di vario che si è fidanzato poi non ci possa andare devo fare sempre il biglietto e le ti risponde vario accetto sono fidanzato nonno grazie il biglietto devi fare il biglietto per cosa scusate per andare la milano lei di milano a parte ma io lette di napoli comunque vabbè anche morta qualcun'altra basta che buona basta basta di espirare di gabbiere tanto per crescere un figlio che si fa anche voi vuoi un figlio a gabriele ma capito che avete due orazio ragazzo carichi che ha messo in cinta una tu che ricicavo il figlio non vi chiesto di questi chi a stamattina non viene la polizia non viene vado a pigliare a non viene la polizia dopo che mi ha fatto incinta da purtroppo non conoscono la retromarcia io sono capire le trovi di c'è scritto pure retromarcia ok comincia a best andate dice un'altra cosa mi dico da me mi dico la mia un bagno e vada e retro locale e ai rossi vedo le difficoltà eh sì però si mi chiamo tutti i santin cielo aspetta per l'oltre 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 ma non ti preoccupare che la vita è solo una poi non ci vediamo più pagare dai tavolos poi se voglio io non ti sono più a giocare non posso fare più la sab sarebbe questo che ti da comics manco la sabbo posso attivare più a gabile cilandale tina comics certo ma sono tre giorni vabbè per l'incoccio cambi strada attacchiamo tutto lato costringato vabbè io ho tanti look diversi ogni volta mi vesto come sì c'è un sacco di cose del normale guarda tiktok come sei eh vabbè io lo faccio per passatembo tiktok ah sì poi se leggi i commenti oh ma bi minchia sto volando minchia ma un cannone vabbè io ce l'ho il coso per la safe minchia passi 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 ciao passi non saluti bella vabbè spaccato le tue tue tighe vabbè fatti ammazzare ciao bello vieni qua fatti dare tue spulacciate prossima skin ci sarà certo di la titanica c'è stato stati stati di vista boss proiettemi finita tramite la cava stesso il fucile io voglio dire che sembra ogni volta da vedi sminchiati questi ragazzi sembra continuo a guffare cajokin 2027 continuo a guffare 2080 e poi fatta sab picchi di step andando da fa fine d'ora ci fai cazzo ne vai da rossi troppo cazzo ne va da rossi troppo cazzo ne va da rossi no a paramento devo parlare c bambini cosa c'è chi no qualcuno c'è chi no a pensavo con euro che lo sta qui dicendo mi confondo sempre con le frasi forca ragazzi la c'è già a noi verso la gente not dai che andiamo a casa so fare un sacco di voci ragazzi ci vado io sono belle le voci di alo con la mazzoglia mia spangio basque metà di cacassi e cacassi cacassi io fitto l'autobus siiii eccolo eccolo io fitto l'autobus di nuovo eccolo aiuta aiuta dottor Stem dottor Stem spregone torna nell'ottredombo minchia l'ammazzogli minchia diventavo solido buttane sai che sono salito nel caramato l'ammazzogli fenditure abbiamo tutte le fenditure ora buono ci manca su una madone tanto fino a 3 te ne vuoi mettere ho una testa così non moriamo no se qualcuno è in difficoltà vabbè però io ne ho ne può mettere fino a 3 nel look anche alla niente switch davide io non so se nei posti di lavoro mi hai conosciuto dei personaggi come colleghi io tipo ne ho uno che per lente si è fatto sposare da un pede del porto e ogni volta che vede il pede del porto lo ferme c'è guarda Michele ci manca solo la madonna no non ho capito ci manca solo la madonna in che senso nel senso siccome è incazzato da morire ci venire proprio di best in life per noi il 3 te eh ah quindi guarda Michele ci mancava solo la maronna se è nato che cazzo vuole questo ecco che bello è suscitato la pistola di merda seba ho di nuovo ieri di Paolo Bonolis oh il commissario molto a pano gli italiani benvenuto quest'oltre voglio vedere il commissario molto a pano così diventa carabiniere un amico mio ci sono io gente li salutiamo c'era c'è io volevo salutare porca buttana oh ma bomba spammer blu viola manco manco per miracolo proprio qua da là si fa de pio poi stanno prendo io prendi prendi rendi io non devo prendere niente rosso oh ma che ci fa una fenditura qua guardate ma non lo so guardate che ci fa qui qui non ci è stata mai una fenditura ah boh ora la prendo ora la prendo e non la prendo che cazzo è finito davide aria ah che bella sono la stessa spada ma se c'è una mia stanza ma quasi quasi io prima c'era nell'evento c'era Thanos io ci sono stato Thanos Thanos da morire quando spike riscuo dov'è ma sto in mezzo io non lo so oaaah prendi dura prendi dura prendi dura oah minchia cioia la coronavirus sarebbe la scuola spada la cerca che appena schietti che mi sono fatto una pratica in singolo solo la spada l'altra che dire ci cambiamo come c'è un altro corone c'è un fucile a blu in gasetti che la pizza ma siete ma abbiamo vinto se ne rimane uno no due ma lasciamo 4 ma guarda stai che menti dove deve evitare dettagli man fireman si quando ero piccolo però mi ricordo tantissimo è l'uomo che combatteva minchia che ricorda che è l'uomo che combatte con tuo padre pino poi scende copritemi dobbiamo tornare ci vedo la proprietà o l'auto che bussò oh la save è precisa al vulcano guardate ma dove cazzo sono? sono mori in vulcano mori oppure sono qua dentro allora gli abbatte tutte cose bravo bravo vai vai bravo quindi siamo militari io e Ross ma ti sto aggendo tutti ne manca uno ragazzi ne manca uno nooo ma porco tif che è successo? sono l'attenzione sulla ragnatela gli hai sparato la ragnatela e me l'hai tolta e solo stavo morendo cazzo cazzo lo scappo dove è? dove è? ragazzi di te sparo ha sparato a dottor strange quello vero non la direzza oh no oh te lo dan spotto? oh shit mi pare che lo te lo dan spottato da un'altra patta è troppo strange Dove cazzo è lo stronzo Bedù? Quel bermicetto lo dov'è? Samu? Ma che fa? Crasciati? Ha cresciato Samu? Si, ha stessato E' stato strange, è venuto a casa sua Da dove fanno? Ah ma sono un po' Parti? Lo vedo, lo vedo Stai accennato Bussu, vabbè il pezzo Nè, con l'autobus qua sopra ha vinto, guarda Seba, che fa di scapparti, vero? Fino a finire sta mano con basta Bastardo Bastardo Goku Mi confermiamo? Eh manca